lo shop di forn di oggi ovviamente di venerdì è venerdì 9 giugno questo è il primo bundle bundle Optimus prima 1800 WBAC del set Transformers ovviamente guardate ha venuto spirito di prima quindi la trasformazione le mod altrimenti solo la skin 1600 WBAC del set Transformers poi c'è il bundle Uzi difensore dei boschi tutto il bundle 1500 altrimenti solo la skin 1200 e poi il bundle Refungus ovviamente avendo già il piccone mi costa 1000 il bundle la skin Kung Fu poi molto bello il bundle piedone 1500 WBAC e molto furtiva le moto e poi si balanza il bundle rinati gli antichi rinati io ho già ovviamente tigressa ecco il corridore di Giada quindi a me costa solo 1200 WBAC poi il bundle soldati del sole mi raccomando Master lascia un bel like alla live se vuoi la puoi condividere sulle tue piattaforme corridore di Giada quindi non ce l'ho io ho tigressa uno corridore pensavo di averlo invece e poi ovviamente c'è Tango Abbaio Abbaio è molto molto bella questa skin Abbaio tutto il resto era quello che c'era già ieri era quello che c'era già stamattina hanno aggiunto qualcosina ovviamente con la season nuova codice creatore Mickey Crow mi raccomando se volete sostenere il canale e da mettere prima delle vostre scioppate su Forna e su Rocket League o su qualsiasi altro gioco Epic Store chi lo fa ovviamente dico grazie grazie mille ragazzi